Signore, il papa della comicità italiana, Corrado Luzzagli. No. No! Non so se non lo so! Buonasera! Che chingo! Buonasera! Non mi viene da piangere. Sono rimasti di merda tutti. Volevo dire al mondo che in questa storia drammatica c'è una grossa lì. Ma c'è grosse crisi! Poi non sapevo più quanto stiamo intanto su questa terra. Ti chiedi come mai, ma la risposta non la devi cercare voi. La risposta è dentro di te. E però è sbagliata! È sbagliata! Andamie ragazzi! Corrado, come mai hai accettato sta minchiata qua? Come mai hai accettato sta minchiata? Non c'è da ridere che sia questa cosa seria. La gente sta ammiagolando veramente la buia. Maestro, ma non ci faccia ridere! Non ci fare ridere! Io sono il tuo idolo! Non avrei mai pensato che lui potesse fare LOL. Invece era lì davanti a me e mi sono inginocchiato e gli ho detto... Io sono il tuo idolo! Così gli ho detto... E il cast di LOL è ufficialmente completo.